Salve ragazzi, benvenuti anche oggi su Opinione di Luzio. Siamo qui per festeggiare un momento importante della mia vita e lo voglio condividere con voi. Buonasera Luzio. Cos'è questa cosa qua? C'è la festa questa sera. Che festa? Questo è il centesimo video del canale Opinione di Luzio. Ah, buono! Quindi bisogna festeggiare. Eh beh sì, però perché tre bicchieri? C'è un altro ospite. E chi sarebbe, scusa? Sì, una persona che sto stimando molto. Una persona che stai stimando molto? E chi sarebbe? È una persona su cui ultimamente... mi sono ricreduto ultimamente. Non capisco chi possa essere. Nemmeno io fino a qualche giorno fa. Adesso però lo sai. Sì. E me lo vuoi dire anche a me? Sì, te lo voglio esplicitare anche a te. Questa buona notizia la voglio anche condividere con tutti quelli del nostro canale. fallo sapere anche a me. Eccolo qua. C'è sul giornale il messaggero. Messaggero? Il messaggero? Sì. Il messaggero di oggi. Draghi, in Europa. Flashmob, moda, i rioni, monti. Non capisco. Di chi stai parlando? Cosa c'è? Eh, non lo legge il primo titolo della prima pagina del messaggero di oggi? Serafino Massoni è tornato? Tornato da dove? Eh sì. Dall'esilio di YouTube. Da 14 giorni di esilio. Ah, tu ti riferisci a questa cosa di YouTube di Serafino Massoni? Sì. L'estrema bontà. L'estrema bontà? Eh sì, lui ci ha dedicato un video che dopo l'esilio, lui ha capito di essere stato frainteso con quello con cui litigava nel canale YouTube. Niente un po' di meno. E cosa altro dice? Dice che a tutte le persone che hanno avvertito del diverbio, dell'astio, tra i miei confronti, questa cosa non esiste e che lui ha esplicitato che su YouTube vengono date le visualizzazioni a tutte queste persone che pensano a questo e chiede allo YouTube naturalmente di poter spostare le sue visualizzazioni a tutti coloro con cui c'è stato della credine. Quindi anche al tuo canale? Anche al canale o pieno di luce, sì. Secondo me ti prende per il culo. Ha 73 anni. Dici di no? Io penso che se una persona 73 anni dice una cosa, dice una cosa perché gli parte dal profondo del proprio cuore. Sarà come dici. Per me sarà così. Vogliamo brindare allora cosa, scusa? Che naturalmente brinderemo col fatto che Sarafino Massoni risponderà e sarà ospite nel nostro video che abbiamo argomentato oggi, poc'anzi, in questo momento. E quindi Sarafino Massoni, dai tu la risposta a questo mio ospite che non ci crede. Dai tu la risposta, Sarafino Massoni. Vendiamo. Vendiamo. La risposta sbagliata probabilmente. Se viene bene ci faccio un po'. Vabbè, non la sostanza. Tutte le coperture che vuoi. Dai, non senti. Che cazzo devo dire adesso? Vai, vai, va schifo. Ti do un po' la ripetizione. Il chioppo. Non lo leggi il primo titolo della prima pagina del messaggero di oggi? Secondo me ti prende per il culo. E quindi voglio dedicare questa cosa sia la filmazione. Hai detto? Perché mai abbiamo micchi e vieni. Mi sento.